we care ha lasciato molto di concreto sul territorio soprattutto per noi mediatori ci ha fatto capire che siamo comunità lavoriamo nella comunità e per la comunità proprio per questo we care non ha solo lasciato qualcosa in concreto continua ogni giorno a lasciarlo e per questo continuiamo noi stessi con questo progetto allargandolo sempre di più e condividendo sempre di più per cui noi siamo per we care con we care e nel nostro we care